Il coccodrillo come fa, non c'è nessuno che lo sa, si dice mangi il trotto, non metta mai il trotto, che fuori di tibunga, che quando spesso pianga, però con il tranzillo come il nostro coccodrillo, il coccodrillo come fa, non c'è nessuno che lo sa, si arrabbia ma non si sa, si dice mangi il trotto, se ne va. Quanto sui giornali non c'è scritto niente, sembra che il problema non importi, alla gente. Ma sempre in casa al mondo c'è qualcuno che lo sa, la mia domanda ancora tutta fuori. Il coccodrillo come fa, non c'è nessuno che lo sa, si dice mangi il trotto, non metta mai il trotto, che fuori di tibunga, che quando spesso pianga, però con il trotto, come il nostro coccodrillo, il coccodrillo come fa, non c'è nessuno che lo sa, si arrabbia ma non si sa, si arrabbia ma non si sa, si arrabbia ma non si sa, si sa, si sa camomilla, che mezzo addormentato se ne va. Adesso ripetiamo se ne vogliamo ricordare, come fanno per farciare tra di loro e gli animali. Come fa il cane? Come fa il cane? Come se ne va? Lefecola? il cocodrillo, il cocodrillo il cocodrillo con il mar non c'è nessuno che lo sa si lì c'è mangi tempo non venga mai capata che con i gatti fugga che quando spesso che ama che è con il tranquillo con il basso il cocodrillo il cocodrillo con il mar non c'è nessuno che lo sa si abbraccia la manostrilla si aspetta la mamma mia il braccio a dormitato se ne va il braccio a dormitato se ne va